E allora penso che ci siamo quasi tutti, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per essere intervenuti alla nostra dodicesima marcia per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. È stata una gran fatica con questo caldo e quindi il ringraziamento vi va fatto per due volte a tutti noi. Quindi direi che il primo a prendere la parola è il sindaco di Campagnano che ci ospita anche in questa bella sala, oltre ad averci ospitato nel suo comune. Quindi passerei immediatamente la parola al signor sindaco. Grazie Vincenzo, grazie a tutti voi di essere intervenuti. Noi come comune siamo onorati per il secondo anno di ospitare questa bellissima marcia. abbiamo cercato di invitare anche altri comuni, ma questo è un periodaccio, ve lo dico, sono quasi tutti impegnati in varie manifestazioni. Noi questa mattina, io già ho fatto una marcia fin qui stamattina e l'ho ripetuta oggi pomeriggio con voi, questa mattina abbiamo inaugurato le statue, cioè delle opere d'arte, una è qui fuori e altre due sono giù nella Valle del Sorbo, di artisti internazionali. Quindi c'è un po' di fermento in giro, quindi ognuno ha i suoi impegni. Però ecco, io ci tenevo a essere presente, vi ripeto, l'ho fatto stamattina, l'ho ripetuta oggi pomeriggio molto volentieri, perché ritengo che una dimostrazione da parte di un'amministrazione comunale nei confronti di chi si impegna in questa lotta purtroppo inascoltata dalle varie autorità civili sia fondamentale. Cominciamo a dare una dimostrazione di unione, cominciamo a far vedere che ci siamo, che ci sono queste persone che vivono in maniera veramente barbara. Stavamo commentando ieri sera nella conferenza, nella presentazione del libro di Vincenzo Olida qualcosa che ci disturbava era come vengono trattati oggi in Iran, cioè cosa sta succedendo ai confini con la Turchia, cioè la Turchia invaso così, un popolo bombarda, uccide, senza motivo, non si capisce neanche perché. E oltretutto minaccia l'Europa, dice se non è vi mando della tutti i terroristi, cioè qui stiamo a livello veramente incredibile. A Hong Kong ammazzano i giovani, li mettono in prigione, li torturano, sono tutti ragazzi, c'è il futuro e questi non gliene importa niente a nessuno, continuano tranquillamente la loro lotta, la loro barbarie in tutto il mondo. Io dico grazie a Società Libera per questo impegno, grazie a tutti voi di essere intervenuti, è un onore per me ospitarvi qui, grazie. Grazie sindaco, non ti ringrazio per il lapsus perché a un certo punto hai detto libera, è una cosa che non piace al mondo di società libera, è un certo mondo liberale, perché a noi non piacciono i professionisti dell'antimafia, come avrebbe detto Ciaccia tanti anni fa. Perdonatemi questa parentesi, io direi, visto che gli iscritti a parlare non sono pochi, diamoci un tempo di all'incirca otto minuti per interventi, iniziando da un amico di Società Libera che è già venuto più volte alle marce della nostra associazione in Italia, che è un rappresentante del popolo euguro, qui seduto, che è Enver Khan, che viene da Bruxelles e ci racconterà la ultima situazione a proposito dell'oppressione del popolo euguro nel nord-ovest della Cina. Noi abbiamo ospitato più volte, tre volte per l'esattezza, nelle dodici marce che abbiamo fatto, la leader spirituale del popolo euguro, cioè Rebbia Kader, lui ne è un valido collaboratore e quindi lo pregherei, come dire, di aggiornarci sulla situazione incresciosa che in questo momento il popolo euguro vive nel nord-ovest della Cina. Grazie mille, ragazzi e ragazzi, sono molto felice di essere con voi. La Uighurs, ora 15 milioni di persone, sono una delle ricche di centrile di Central Asia e tra l'historico di un'illegrazione di un'illegrazione di un'illegrazione di un'illegrazione di un'illegrazione di un'illegrazione di un'illegrazione. Il risultato era il sviluppo di una cultura ricca e società open in questa regione. Un crocivia per diverse religioni e culture. Abbiamo visto lo sviluppo di una cultura e di una società molto ricca. Non sono un istorio, ma credo che il primo italiano in Uyghur era Marco Polo. I Uyghur erano i soldati tra la Cina e l'Europa nella città storica. Non sono uno storico, ma ritengo che il primo italiano che vende nel nostro territorio è Marco Polo. Marco Polo e gli Uyghuri sono stati i primi a fare da commercianti e mediatori fra la Cina e l'Europa attraverso la Via della Seta. La pasta che Marco Polo ha importato dalla Cina in Italia non è cinese, ma Uyghura. Il partito comunista cinese ha invaso il nostro territorio, le nostre terre nel 49 e le ha annesse, dichiarandole regione autonoma, questo però solo sulla carta. Un istorio Uyghur, chiamato il professor Ilham Tohti, è stato sentito a la presenza di vita nel 2014 per chiedere la regla della legge e promuovere la ammiglia e la harmonia tra tutte le etnicità in Cina, including la nazione Uyghur e la minorità di Hano. Uno studioso Uyghur, il professor Ilham Tohti, è stato ingiustamente condannato all'erogassolo nel 2014 per aver richiesto l'istituzione dello Stato di diritto e di una amicizia e armonia tra tutte le etnie presenti in Cina, incluse anche la minoranza cinese degli Han. Il Partito Comunista Cinese non va da spesa, sta spendendo milioni di dollari per allargare le prigioni e per trasformare edifici ordinari in prigioni o in campi di internamento dove gli Uyghuri vengono detenuti in maniera segreta e sconosciuta. I campi hold over one million people and possibly as many as two million people in extrajudicial, extralegal detention purely on the basis of their ethno-religious identity. e circa un milione di persone sono detenute in questi campi e anzi arriviamo a due milioni detenuti in maniera senza processo, in maniera extragiudiziale e al di fuori dalla legalità solamente sulla base della loro appartenenza etnica e religiosa. In questi campi, vittime hanno rappresentato che detenuti sono forzati a renunciare la fede e la identità, siano i prezzi del Partito Comunista e del Xi Jinping. I campi holdono i rappresentanti che hanno detto, «Over and over again, my soul is infected with serious diseases, there is no God, I don't believe in God, I believe in the Communist Party». Le vittime di questa detenzione sono costrette a rinunciare alla loro fede e alla loro identità, a cantare le lodi del Partito Comunista cinese e le lodi a Xi Jinping. Dei sopravvissuti hanno detto di essere stati obbligati a ripetere tantissime volte, «La mia anima è infetta da una malattia infettiva, non esiste Dio, io non credo Dio, credo solo nel Partito Comunista cinese». There are reports of so-called halal organ harvesting, aimed at customers from Muslim world and the Middle East especially. Si dice che vengano raccolti degli organi in maniera halal, come dire, e questo è purtroppo un costume che si sta diffondendo nel mondo musulmano e del Medio Oriente. Lo scopo di questi campi è chiaro, effettuare un lavaggio del cervello e esercitare un controllo stettissimo sugli Uiguri e sulle altre popolazioni di Ceppo Turco. Questi campi si propongono una deumanizzazione e il genocidio che purtroppo hanno raggiunto adesso ogni angolo del mondo Uiguro. Uiguri non sono anche liberi in loro loro loro. I membri di Partito Comunista sono senti per rimanere con loro e per non guardare un po' di disloyale. Almeno un milione di uffici sono senti per vivere in Uiguri in un'unica campagna di famiglia. I uiguri non sono liberi neanche nelle loro case. I membri del Partito Comunista Cinese sono stati mandati a vivere proprio con loro e ad osservare alla ricerca di ogni più piccolo indizio di slealtà nei confronti del partito. Un milione di rappresentanti del partito sono stati mandati a vivere con gli Uiguri nella campagna di diventiamo una famiglia. Già, quasi un milione di membri del Partito Comunista Cinese maschi oggigiorno dormono nelle stanze con donne Uigure in questa campagna di diventiamo una famiglia in maniera forzata. Vanno a finire proprio nel centro, nel midollo dell'intimità delle famiglie Uigure. Questo è stato chiamato il primo genocidio postmoderno. E questa repressione dei diritti umani, questa brutalizzazione del popolo Uigure e questa sua cancellazione ci chiama con forza a una risposta da parte della comunità internazionale. Uno dei testimoni di questa crisi, l'anno scorso ha parlato di questa crisi umanitaria, dicendo che il silenzio è qualcosa di innaturale e che in realtà stare zitti di fronte a questo massacro atroce vuol dire dare il fuoco verde, la via libera alla perpetrazione di questa atrocità. Oggi con questa marcia vogliamo mandare un messaggio forte. Vogliamo dire alle autorità di Pechino che noi, dalla nostra società libera, noi società libere democratiche, vogliamo resistere a questa pulizia etnica che stanno portando avanti nei confronti del popolo Uiguro e tibetano. Con la nostra azione vogliamo fare un appello al regime comunista cinese. Chiudete i centri di detenzione e lasciate liberi, liberate gli intellettuali che vi sono chiusi nelle prigioni, come ha incluso anche il professor Ilham Toti. Hierwith, I express the gratitude of the Uyghur people to society libera, President Vincenzo Olita for organizing such march every year and thank you all of you from my bottom of my heart for being here today to support us. Sono grato, a nome del popolo Uiguro, esprimo la sua gratitudine nei confronti di Società Libera, del Presidente Vincenzo Olita per aver organizzato questa marcia ogni anno e ringrazio tutti voi dal profondo del cuore per essere qui oggi. Vorrei fare io una domanda ad Evern Khan, brevissima. Da più parti ultimamente si accusa il movimento Uyghur, il popolo Uyghur, di essersi trasformato un po' in un movimento terrorista. e alcune azioni terroristiche in Cina sono state addebitate anche da certa stampa internazionale al popolo Uyghur. Vorrei una risposta, come dire, da Evern Khan su questo aspetto. È vero che il popolo Uyghur in qualche modo è lontano, mille miglia, da questo tipo di terrorismo? No, 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 no. Siamo muslimi. Alcune persone venivano a studiare il Pakistan, l'Afghanistan e anche all'università di Al-Hazhar in Cairo, Allora, noi siamo musulmani alcuni di noi sono andati a studiare in Pakistan, Afghanistan alcuni anche all'università di Al-Shar al Cairo Those students in the 90s and 2000 years they were not able to go back to their homelands and they stayed in neighboring Afghanistan and Pakistan and many of them many of them were misused by Afghan Taliban and Pakistanis and many of them were captured and given to the US in the beginning of 2000 years years of 2000 and as we all know that in the there were many Uyghur captures in the Guantanamo camp and none of them were guilty of any kind of crime e come tutti sappiamo molti Uyghuri sono stati catturati e internati a Guantanamo nessuno di loro però era colpevole di aver commesso alcun crimine Uyghur on the other hand China was cooperating with Afghan Taliban and with Pakistan to use Uyghur as terrorists so we are China is also producing terrorists and sending to fight in Syria elsewhere to prove that Uyghur are terrorists but this kind of propaganda by China is backstabbing it is it failed because the free democratic world is with us and increasing democratic countries are supporting our peaceful democratic resistance to the Chinese rule ma questa propaganda ultimamente si è arrestata ed è fallita perché il mondo libero e democratico si è come dire espanso e i paesi democratici hanno sostenuto invece la nostra protesta e resistenza pacifica grazie Ember grazie da un continente all'altro cambiamo continente passiamo dall'Asia all'Africa abbiamo qui il rappresentante l'amico Sena del Senegal che invito a venire qui al tavolo per il suo intervento che rappresenta il movimento su Africa salve buonasera a tutti è il mio primo di partecipare a questo evento quando l'ho saputo ho detto di sì subito perché è una cosa molto interessante non soltanto rappresenta il Senegal ma rappresenta oggi tutta l'Africa perché il nome della nostra associazione vuol dire Sunu Sunu vuol dire la nostra siamo disponibili anche a stare dietro di voi quando avete bisogno perché noi lavoriamo questo ogni giorno che passa lo viviamo ogni giorno e non abbiamo abbastanza potere abbastanza forza di fare altre cose possiamo solo mixare o partecipare conoscendo gente come voi per poter continuare la lotta che stanno che stanno facendo è una bella cosa e ringrazio anche di aversi invitati lo ridico sempre perché è una cosa molto importante nessuno l'Africa è dietro di voi noi siamo qua facendo la nostra arte di quelle che conosciamo dai da nonno è una cosa di famiglia e fino ad oggi viviamo a Roma solo con i miei figli qua che ho trasmetto anche il verissimo e volevo dire solo che questa cosa è una cosa che dobbiamo mai mollare possiamo sempre continuare a fare vedo che è un po' difficile da fare ma se c'è mia nonna che mi diceva se c'è una corra da tirare finché continuare a tirare un giorno si taglierà facciamole insieme tiriamo queste cose insieme e il Suno Africa sta dietro di voi un giorno vinceremo avremo tutto quello che vuoi aiutiamo tutte le persone che si trovano oggi su queste difficoltà grazie di tutto e poi grazie 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 sicuramente all'amico Sena le cui parole penso che possiate condividere ce le ha raccontate col cuore oltre che con la lingua in qualche modo questo si sentiva e oggi abbiamo un nuovo amico evidentemente e insieme continueremo questa battaglia per la libertà perché società libera anche sulle orme di un signore che si chiamava Marco Pannella e si chiama tuttora Marco Pannella ci ha insegnato che la libertà o è un fatto globale o non è la libertà non finisce a Brennero per l'Italia grazie ancora adesso invece sentiamo le ultime novità che ci vengono dall'Iran da un amico che in qualche modo partecipa alla prima ma alle 12 marce di società libera sin dalla prima edizione romana vieni qui accanto a me caro amico Esmail Moales e raccontaci che cosa succede in Iran in questo momento per non prendere molto del vostro tempo ho scritto due cose che devo scrivere più che parlare dell'Iran parlerò un po' l'Europa che è forse più interessante a proposito di Uguri visto che il regime islamico iraniano praticamente protegge tutti i musulmani dove esistono mai una parola sul maltrattamento di Uguri in Cina perché insomma ben noto le relazioni economiche della Cina con l'Iran sebbene dove non c'è una notizia buona per il regime iraniano il silenzio è sovrano allora mi preme dirvi che il regime iraniano ha impiccato finora 120.000 dissidenti politici e nell'estate dell'88 in poche settimane oltre 30.000 mi preme dirvi che durante la presidenza del presidente del regime iraniano Rouhani il moderato per i governi democratici occidentali sono stati impiccati oltre 44.000 persone tra cui 97 donne e 36 giovani che all'epoca del commettere reato avevano tra 14 e 17 anni mi preme dirvi che la società iraniana è sul punto di esplodere e il regime non ha alcuna via d'uscita dirvi ancora che la stampa libera dei paesi liberi democratici sceglie di rimanere muta su questa cosa dirvi che la dittatura iraniana non ha più la capacità non l'ha avuta mai di negoziare o provare a proseguire una via pacifica o una pacifica convivenza che messa all'angolo sarà sempre più aggressiva altro che l'isis per questo il regime terrorista al potere in iran non lascerà mai la sua politica di espansione e di destabilizzazione della regione gli iraniani i lavoratori donne studenti giovani pensionati stremati dalla povertà creata dal regime corrotto e incapace iraniano i dissidenti iraniani sfidano ogni giorno la dittatura teocratica rischiando lunghi anni di galera o addirittura la loro vita stessa ma la becera politica da appeasement ha dato fiato e dà fiato e allunga la nefasta esistenza di questo regime che fare chi è contro la guerra e contro il terrorismo vede altra via che tranne la democratizzazione dei paesi medio orientali è possibile perseguire una vita che porti alla democrazia quando il regime teocratico iraniano ha in mano e condiziona dall'Afghanistan al Libano passando per l'Iraq e la Siria sapete che i kurdi iraniani da 40 anni sono sotto la repressione sanguinaria del regime questo non fa notizia ora i liberi giornali dei liberi paesi democratici stanno occupando di Trump di Putin e di col piccolo califo Erdogan si versa lacrime c'è paura dell'Isis l'occidente ha paura i governi occidentali versano lacrime di cocordillo una cosa è certa i governi che tra una dittatura sanguinaria quale iraniano e il popolo che la combatte scelgono la prima non potranno mai praticare una buona politica verso i loro popoli sto parlando dei governi italiani parlo dei governi dei paesi europei parlo dell'unione europea guardate il suo alto rappresentante Joseph Borrell che ancora dal primo novembre arriva all'incarico che sostituisce la Mogherini la quale di fatto è stato solo il portavoce del regime iraniano alla commissione europea questo nuovo alto rappresentante agli affari esteri dell'UE questo Borrell crede fermamente che il regime iraniano sia fondamentale per la stabilità del Medio Oriente ha ragione guardate il Medio Oriente guardate il mondo dopo il comeinismo e dopo ora è molto più stabile vero? io nelle ultime elezioni europee ho votato la scheda bianca il sentimento che mi pervade a vivere in mezzo a questa politica e a questi politici è l'imbarazzo e non credo di essere solo assenteismo e populismo crescono insieme alle promesse sempre più grosse e sempre più uacque vivere da esule politico non è facile è insopportabile anche per un solo giorno vivere tra chi elemosina democrazia sicurezza agli assassini del tuo popolo è doloroso un esule politico nell'occidente di oggi o è perseguitato è frustrato è sfruttato o ignorato permettetemi di essere solo per un attimo me stesso l'occidente oggi con un pugno di gente insediati nei governi guidati da chissà chi e in affari con dittatori sparsi nel mondo ha in ostaggio l'intera popolazione ha in ostaggio l'intera l'umanità per questo io mi sono mi sento in imbarazzo mi sento molto in imbarazzo in questo occidente grazie e allora adesso abbiamo ascoltato un po' la voce di alcuni popoli ritorniamo un attimo sull'Italia abbiamo qui di fronte a me che mi guarda con insistenza Sergio Delia di nessuno tocchi caino e allora lo invitiamo a venire al tavolo e a fare il suo intervento su questo argomento perché tutti conosciamo nessuno tocchi caino che cosa significa per l'attività che svolge in questo paese e per l'amicizia che offre la società libera e le sue iniziative grazie grazie Vincenzo siamo qui direi che siamo più numerosi rispetto all'anno scorso nel senso che abbiamo cercato di coinvolgere io sono molto contento che tu hai dato la parola a Sena di Suno Africa perché volevo che loro respirassero anche l'aria di queste marce di società libera loro di mestiere sono degli artisti fanno musica eccetera però non sono soltanto la musica i colori la voce dell'Africa sono anche diciamo vicini e solidali agli uguri ai venezuelani ai tibetani agli iraniani cioè la cosa bella di oggi è che almeno loro hanno allargato questa tua famiglia Vincenzo è la dodicesima marcia io non so se Marco ha come dire saltato qualche edizione da quando io ti conosco Vincenzo conosco società libera credo che saranno almeno sette otto anni Marco alle vostre marce c'era e io Rita Elisabetta normalmente lo accompagnavamo quindi non potevamo non rinnovare questa tradizione noi qui non è che siamo in rappresentanza di Marco Pannella ma certo siamo qui ispirati anche dal suo esempio non ha voluto mai mancare alle marce di società di società libera quindi siamo qui ricordandolo siamo qui non rappresentandolo ma traendo comunque forza ispirazione dalle sue iniziative Envercian quante volte è venuto ai congressi ai consigli generali del partito del partito radicale da Marco Pannella e ritrovarlo oggi per me un po rivivere no quei tempi in cui lui era vicino era letteralmente insomma un pieno di amore nei confronti degli amici tibetani Dechen Dolcar quante volte ci siamo incontrati con Marco nei congressi nelle riunioni del partito del partito radicale insieme a Envercian Rabia Kader che Marco letteralmente amava per la sua passione per la sua iniziativa io credo che è bene mantenere fisso questo appuntamento di ogni anno ed è bene anche arricchirlo di anno in anno con nuove presenze non c'è il rappresentante dei montagnari quanto i montagnari sono stati dentro lo spirito di società libera di questa beh magari prendiamoci l'impegno che il prossimo anno ci siano anche rappresentanti dei montagnari magari anche di quel popolo cinese che a Hong Kong sta animando quella iniziativa certo poi deturpata dal regime che la vuole in qualche modo bollare come violenta eccetera un altro impegno il prossimo anno non possiamo non avere e oggi quanto gli siamo vicini in queste ore in cui soffrono questo attacco violento distruttivo che vorrà mettere in discussione la loro stessa esistenza non tanto il territorio se voi pensate i kurdi che hanno fatto il lavoro diciamo tra virgolette sporco dell'occidente quello di liberare la parte di territorio dalla presenza della minaccia nei confronti dell'occidente rappresentata dallo stato islamico ebbene oggi sono loro minacciati sono loro sotto bombardamento il mio pensiero io credo il nostro pensiero in queste ore va a loro e l'impegno anche ad averli con noi nella prossima marcia di società libera grazie ancora grazie a tutti grazie a Sergio Delia io direi di aprire di aprire un capitolo nuovo il capitolo Tibet lo guardiamo molto velocemente dalla parte del buddismo e quindi invito qui a fianco a me per qualche minuto il maestro Lob San Sopa che anche lui ha partecipato a varie marce di società libera e poi dopo si prepari subito dopo il mondo laico come dire del Tibet rappresentata da adesso in Dolcar vieni buonasera a tutti ringrazio tutto venuto a questa demarcia di partecipato ringrazio di tutto allora voglio dire qualche parola perché devi raccontare tutto il nostro paese del problema non finisce mai se tutto c'è il problema che raccontiamo non finisce mai solo mi racconto poche le prezze perché troppo non c'è tempo non c'è tardi allora racconto un pochino perché prima il nostro fratello di orgoglio ha parlato come il problema su il nostro paese come uguale problema noi ce l'abbiamo uguale non c'è libertà uguale anche lui ha detto che non posso credere loro di Dio deve credere solo di governi cinesi è come uguale noi c'è il problema come uguale da loro allora che cosa fanno il governo cinese adesso voi sapete noi l'artare ce l'abbiamo l'artare davanti a mettere la foto di Dalilama togliere la foto di Dalilama o noi ce l'abbiamo altro maestro si chiama Pencilama allora loro fa togliere questa da Dalilama e Pencilama togliere fa mettere la foto della Mazzetone poi mettere della Xi Jinping allora devi fare la di diciamo fare l'offertare fare della prostenazione devi fare davanti la Mazzetone davanti alla Xi Jinping allora noi non vogliamo nessuno non vogliamo perché deve togliere il nostro maestro deve mettere la di la Mazzetone e mettere l'artare anche noi abbiamo una cultura che ce l'abbiamo mettiamo la bandiera della preghiera sopra la nostra terrazza e mettiamo le bandiere delle preghiere allora loro tolgono le nostre bandiere delle preghiere mettendola le bandiere delle cinesi non si può mettere le nostre delle preghiere solo mettere le bandiere delle cinesi ha detto che non si può mettere questo ok e c'è l'acqua abbiamo un problema così tutto anche c'è l'altare mettendo la mazzetone poi anche uno c'è un grave problema che c'è tutti sotto i 18 anni dei monaci tolgono tutto il monastero mandano le scuole delle cinesi non si può studiare la nostra lingua non si può conoscere la nostra cultura non si può studiare la nostra filosofia mandano scuole cinesi studiare le cinesi non si può studiare la nostra scuola molto importante sotto 18 anni della bambina molto intelligente molto mente aperta posso studiare più buono che memoria più buono allora l'olio tolgono questa cosa mettono nel cervello tanto cosa si sporca non mettano cosa che non storia della pace della felicità niente mettono più sporco fanno questo poi c'è diciamo che oggi è venuto due monaci che è arrivato l'Ieri dell'India qua allora c'è il nostro uno di Geshe suo zio è ex sabati dal nostro monastero in Tibet si chiama Tau monastero Gnanzo monastero allora loro portando via una serata allora loro hanno detto che lui è andato in una strada sbagliato ha cascato macchina ai fiumi però non ho guardato andato cercando questa macchina per più non ho cascato dentro dei fiumi allora loro è levato più più ammazzato e dove l'ha giusto che c'è un popolo cercando tutta la zona dove la macchina ce l'abbiamo allora non ho trovato mai è perché loro è levato torto perché lui è che sabato molto forte però non sbaglio a leggere non ho modo di togliere questo monaco questo è sabato allora è tutto più nascosto ok questa più più di serata uno nascosto da portare tanto via anche diciamo tanto di una persona bravo studioso conosce bene della nostra cultura che bene bravo tutto levava via nascosto togliere e nascondere non è più pubblica che portano via loro che cosa che è sbariato loro che cosa hanno fatto brutto le leggi sbariato non c'è questa cosa solo porta via nasconde nella sera le tardi luna di notte poi luna due di notte porta via tutti i nostri maestri tutti i nostri maestri tutti i nostri studiatori segnanti porta via tutte levavano tutte e la tutta la popola rimane come la racconta di nostro fratello che c'è la tutta rimane dentro come le prigioniere non si può uscire da tanto gruppo insieme due tre cinque persone uscite da fuori girare da fuori insieme loro subito viene la polizia subito di fare le tante domande quanto tanto picchiavano tutto e allora tante persone uscire da fuori andare alla spesa di paura c'è tutto perché tutto non ci motiva di vedere che cosa sbariasse allora solo decidono tutto picchiavano e allora anche porta la via della prigioniere allora così tutto lo che viviamo come la diciamo scacciato di più e più più rimaniamo troppo stretto stretto più più come la prigioniere poi della libertà prigioniere libertà allora così allora diciamo noi oggi ho richiesto di aiutare il mondo non ci dormire dell'economia più più noi rispettiamo la libertà vogliamo tutta la libertà perché c'è problema da tutte che abbiamo partecipato qua anche c'è la nostra d'Orgolia anche di Mongolia e di Tibet anche tanto di iraniano anche di africano no venuto qua tutta la cella che c'è richiediamo di aiutare non so dormire della sotoeconomia ok allora ringrazio tutto perché c'è la direzione venuta anche della sindaca anche della cd che è partecipato tutta anche società libera ogni anno fanno questo allora ringrazio tutto il cuore non ho solo per me un personale io ho un'associazione in Roma in Tiber non ho solo che rappresento solo come associazione io rappresento 6 milioni di popoli tibetani devi chiedere aiutare la mano di cuore grazie grazie vediamo la parte laica del Tiber vieni Deschen vieni un'amica di società libera da sempre che ha partecipato sin dalla prima marcia della libertà vieni buonasera a tutti buonasera a tutti allora prima di tutto voglio ringraziare loro che ogni anno organizza per il popolo oppresso quindi prima sindaco come tradizione tibetano ringraziamento grazie grazie facendo Marco vieni Marco voglio ringraziare il nome di 6 milioni tibetani perché signor società libra e anche radicali poi anche come si chiama qua campagnano hanno fatto sempre fatto per popolo oppressi queste marcia tanti anni che seguono quindi noi non ci molleremo mai siamo sempre con Vincenzo una società libera ringrazio moltissimo perché tutti siamo popolo oppressi ognuno ha i suoi problemi per esempio noi siamo come tibetani allora tibet anche noi italiani ci sentiamo un po' apprezzo quindi i tibetani forse tutti lo sanno però alcuni non lo sa quindi il tibet occupato dal governo cinese nel 1959 perché una signora mi ha domandato non sapeva niente quindi 59 occupato dal governo cinese è dovuto scappare con sostanza dalle lama e un milione e mezzo tibetani sono morti e poi ci sono ci sono più di più di 6.000 monasteri sono distrutti noi non abbiamo diritti umani in tibet non c'è libertà di praticare la nostra lingua quindi veramente problemi gravi poi il mondo non parla perché c'è interesse economico quindi chiudono occhi per esempio in tibet noi abbiamo un prigioniero più giovane del mondo Panchen Lama si chiama lui quando aveva 6 anni il governo cinese hanno portato via non sappiamo niente Panchen Lama è la seconda autorità del tibet dopo Dalai Lama è lui più importante noi non abbiamo notizia portata via con genitori però vedi nel mondo non si parla di queste cose poi noi finora più di 150 tibetani sono autoimulati per protesta contro il governo cinese perché il governo cinese dicono che tibet c'è autonomia tibet c'è libertà ma dove c'è questa libertà se c'è libertà perché devono autoimulare non c'è motivo di emulare quindi non c'è libertà perché qualcuno turisti vanno lì a fare vedere loro fanno vedere dove vogliono loro non è che c'è libertà di andare dove vogliono turisti quindi tutto è manovrato da loro sotto controllo dei cinesi loro non credono rincarnazioni no però vogliono scegliere la come si chiama rincarnazione di sostanza dalle lama ma come mai loro sono atti perché deve interferire il nostro capo religioso no non c'è senso proprio vogliono comandare solo solo vogliono comandare questo quindi io voglio fare appello a tutti i capi del mondo per favore fare anche commercio però va bene 50 per commercio 50 per diritti umani non è che devi proprio calpestare perché noi non diciamo non fare commercio commercio sì però no non fai finta che non vedere niente quindi noi popolo tutti i popoli soffrono quindi io prego per tutti i popoli che oppressi un giorno si libera e tutti insieme noi possiamo vedere in podala potete venire in tibet un giorno tibet libero grazie dal tibet scusatemi ma ho poca voce dal tibet ritorniamo in italia e lo ritorniamo con una grande amica di società libera che è Rita Bernardini che rappresenta qui naturalmente il partito radicale transnazionale vieni Rita grazie davvero Vincenzo per questo lavoro che insieme a società libera ormai porta avanti da tanto tempo e lo hai fatto insieme a Marco Pannella oggi mentre camminavamo mi raccontavi dei vostri incontri di quando Marco credo alla bocca della verità parlò a lungo più di 50 minuti più di 50 minuti e lo sai lo sai è successo che proprio questa notte Radio Radicale ha mandato integralmente quella manifestazione di tanti anni fa quindi è la memoria la memoria di una lotta che a volte ci fa sentire anche sconfortati però ci dobbiamo fare forza e io proprio vorrei dire questo ai rappresentanti dei popoli oppressi che oggi sono intervenuti Marco diceva stato di diritto democratico federalista laico la libertà la parola libertà che oggi è risuonata in questa stanza ecco voi intanto dovremmo dire noi ma noi tutti anche noi popoli occidentali siamo in pericolo la nostra democrazia è in pericolo io mi ricordo quando proprio Marco Pannella si rivolse al sindaco di Sarajevo Kreseliakovic una città assediata assediata dalla guerra dalla violenza dalla cecità e gli disse dateci una mano perché noi abbiamo bisogno di voi noi noi popoli occidentali abbiamo bisogno di voi perché vedete la mancanza di libertà il genocidio culturale che è in atto nei vostri popoli voi lo vivete e lo sentite sulla vostra pelle qui da noi spesso sentiamo che manca questa sensibilità questa profondità di comprendere come la democrazia può essere persa molto rapidamente se non si hanno a cuore i diritti umani fondamentali noi vogliamo stare con voi tutti insieme Marco spesso nelle carceri quando incontrava i detenuti concludeva con together forever insieme per sempre ecco ne abbiamo bisogno perché noi abbiamo bisogno e siamo curiosi delle altre culture di quello che possono darci lingue diverse culture diverse perché ci arricchiscono mentre i dittatori spietati vogliono cancellare le diversità chi non capisce questo non sa che cosa vuol dire democrazia non sa cosa vuol dire il rispetto dei diritti umani fondamentali che sono scritti nelle carte dell'ONU oppure nella convenzione europea dei diritti dell'uomo guardate a che cosa è ridotta oggi l'Europa lo dicevamo oggi mentre camminavamo quindi abbiamo bisogno di agire insieme di essere insieme together forever grazie 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 a Rita Bernardini per i bei ricordi che ho voluto revocare ancora una volta e passiamo passiamo ad un'amica che è qui davanti a me in modo che ci parli della situazione del Venezuela che è Bianca Blanca Briceno un'amica anche di società libera e aderente a società libera vieni Blanca grazie Vincenzo sono Blanca Briceno cofondatrice del gruppo Airesven appoggio internazionale alla resistenza venezuelana nati come un gruppo cristiano di preghiera per il Venezuela trasformatici in una configurazione sociopolitica propositiva e non violenta i ringraziamenti indubbiamente al sindaco che ci ha ospitati società libera liberi tv radio radicale il partito radicale non violento transnazionale transpartito salutiamo anche da questi microfoni da questa marcia unica per la sua per la sua specialità e la sua qualità e la sua capacità di amare l'umanità al punto tale di dire libertà e che la libertà è un bene che deve essere comune a tutta un'umanità in questo momento grazie a quello salutiamo l'assemblea precongressuale del congresso che ci sarà a Napoli del partito radicale non violento transnazionale transnazionale transpartito e la manifestazione a favore dei curdi che si sta svolgendo a Torino in questo momento voglio rubarvi qualche secondo perché voglio fare un saluto molto particolare alla compagna e militante Laura Arconti che si è commiatata pochi giorni fa da noi con la sua acuta intelligenza lei ha fatto una dedica ad Ayres Venn nel suo libro che dice così con affetto alla compagna che ho sempre vista vestita coi colori della sua terra del suo amore sicuramente non sarà molto facile capire perché lo dico ma questo sempre segna la pietra miliare di quanto l'incontro con società libera di Ayres Venn e col partito radicale è stato essenziale per trovare uno spazio dove noi poter sporre i nostri concetti la nostra posizione la nostra concezione e le nostre proposte sulla situazione gravissima del Venezuela con il castrocomunismo in un vive oggi non solo una depredazione del suo territorio delle sue ricchezze ma anche un olocausto uno sterminio un olodo morto l'anno scorso avevo da questi da questo tavolo spiegato un po' come poteva succedere un processo di libertà avevo spiegato l'air to pee la responsabilità verso le persone però veramente non siamo così vicini in quanto l'attuale l'attuale Venezuela ha due presidenti due tribunali di giustizia o due corti insomma costituzionali per voi tre gruppi di due opposizioni più la resistenza ma la resistenza venezuelana ha vissuto un processo molto direi anche doloroso in quanto noi abbiamo alzato la nostra voce da molti anni come Aires Veng e così altri molti altri gruppi si sono formati non ha voluto non hanno voluto le autorità dei paesi dove noi siamo residenti la diaspora venezuelana sono oggi 4 milioni cifra ufficiale dovrebbe essere superiore ascoltare le diverse resistenze io mi auguro che a Napoli al congresso abbiamo inviato una lettera a febbraio dove dovrebbero poter ricevere il comitato per il globo per lo stato di diritto dove Aires Veng assolutamente si presenterà se loro ci ricevono con Vincenzo Olita perché abbiamo chiesto la compagnia di società libera in questo eventuale evento la situazione del Venezuela in questo momento veramente non è descrivibile se non con quelle parole che ho già pronunciato e con qualcosa di peggio che è proprio una mutazione antropologica i crimini e lo ha detto molto bene Ismael questa situazione dove il degrado umano perché la repressione si terribile l'uccisione anche di oppositori l'aggiustiziamento dei nostri giovani nelle marce insomma in un solo in tre mesi nel 2017 si sono portati via 135 vite di ragazzi nelle manifestazioni è uno stato criminale criminogeno altamente crudele mafioso che si è impossessato della nostra repubblica del nostro stato e ha dato la possibilità ai terrorismi islamici al terrorismo dell'eta spagnolo alle forze armate rivoluzionarie della colombia quindi la guerrilia colombiana l'esercito di liberazione nazionale e tutte queste situazioni trovano vita possibilità e anche Ismael ha detto come che Esbola che pure è presente nel Venezuela vive anche dei traffici di droga siamo invasi ed è predato dalla Cina l'Iran la Russia la Bielorussia la mafia dell'oro insomma in questi giorni c'è stato un contrabando d'oro di 800 chili preso in Francia e vogliamo ancora sapere gli 800 chili di colta che sono arrivati l'anno scorso in un porto di Trest c'è una soluzione a questa situazione così violenta certo si invoca l'intervento militare nella zona nel paese però probabilmente sì abbiamo altre possibilità da Rebibbia nel 2016 abbiamo lanciato una proposta adesso rilanciamo quest'altra possibilità che è proprio poter fare un plebiscito del popolo che non deve passare per le istituzioni perché nell'articolo 70 della Costituzione nostra possibile un consiglio di governo e una costituente per poter eventualmente dare la possibilità alla pseudo opposizione collaborazionista e elettoristica attuale anche lei corrotta di fare diciamo fine dell'usurpazione dell'attuale signore governo di transizione e ovviamente alla fine per noi una costituente per loro delle elezioni libere dunque mi accingo a finire se trovo il foglio dove dice fine si si sto chiudendo va bene non lo sto trovando come tutti gli anni lo sapete già che va così comunque chiudiamo veramente con il saluto di Iris il suo slogan e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi poi questo messaggio di Gesù è molto importante per noi della resistenza dice Gesù presiedere a loro guardate che nessuno vi seduca quindi diciamo questa idolatria dei fantasmi che saranno per la soluzione dei nostri problemi che ovviamente non lo fanno negoziano la nostra schiavitù è imprescindibile viva società libera viva Venezuela livre democratica e cosciente il partito radicale non violento transazionale traspartito viva viva Radio Radicale grazie a tutti voi grazie mi tocca sovvertire un attimo la scaletta che mi ero preparato e voglio e devo dare la parola ad un amico di società libera non che aderente a società libera e se stesso che è l'amico Alessandro Massari nella speranza che un quartetto che si è formato di gente che parla vivacemente disturbando come dire sia Radio Radicale che Libera TV con l'intervento di Massaro il quartetto Sicchetti in qualche modo grazie Alessandro grazie grazie a te Vincenzo e grazie a tutti voi presenti ma era animato per il dibattito che stavamo ascoltando e siamo arrivati al dodicesimo anno di questa marcia dove partecipiamo spesso io qui porto il saluto di Radicali Italiani porto il saluto di più Europa abbiamo aderito formalmente c'è Valerio Federico con me Giuda se n'è andata dopo aver ascoltato le parole di Sergio Delia e di Rita Bernardini siamo affezionati a questa marcia perché noi crediamo fortemente nel diritto nel rule of law il primo intervento ne parlava da Radicale essendo convinti nella primazia del diritto e dell'approccio trasnazionale io ritengo che anche in questa sede noi dovremmo iniziare a domandarci quanto il diritto esistente sia adeguato per la tutela dei popoli oppressi e delle persone che ne fanno parte io credo che sia arrivato un momento storico in cui si debba mettere in moto con tutte le forze e con tutte le capacità che si hanno una battaglia anche per la miglior precisazione dei diritti che possono consentire poi la tutela degli individui perché noi non abbiamo una definizione giuridica internazionale del popolo e non avere una definizione di diritto internazionale di popolo incide sui diritti umani per tutte quelle persone che fanno parte di popoli che appunto non vengono riconosciuti e sono oppressi perché sono senza Stato questo è un problema enorme e noi abbiamo avuto nell'ONU nel 1948 una splendida aspirazione quello a fare sì che i diritti umani fossero dei diritti per tutta la famiglia umana eppure quei diritti umani che si sono poi atteggiati con i diritti dei rifugiati che trovano adesso un punto di tensione i diritti dei bambini i diritti per alcuni individui non hanno trovato l'equivalente nella precisa definizione del diritto del popolo e come coniugare i diritti individuali appunto ai diritti dei popoli che guardate sono coevi perché vengono menzionati sia nella dichiarazione dell'indipendenza delle colonie per la indipendenza appunto degli stati dalla Gran Bretagna menzionando prime popoli loro dovevano distaccarsi da uno stato o in Francia che attualmente è uno dei paesi più nazionalisti eppure lì invece viene messo prima il cittadino due rivoluzioni riprese poi con l'intuizione di Wilson che parlava appunto di autodeterminazione dei popoli ma limitato all'ambito solo europeo in un momento di grande rivoluzioni violente di guerre come anche adesso noi stiamo verificando all'interno del nostro stato insomma io la faccio breve credo che se non si estendono ai popoli maggiori precisioni nell'ambito della certificazione dei diritti la tutela degli individui di quei popoli sarà sempre più difficile e quindi non solo si violeranno i diritti dei popoli ma degli individui e da questo io invito anche in futuro insieme a tutti coloro che vorranno essere con noi a partecipare a questa elaborazione che deve portare a nuovi diritti da conquistare e vengo poi a quello che avete sentito tutti perché nonostante la globalizzazione abbia migliorato la vita di molte persone soprattutto da un punto di vista economico però non è stato così in tutto il mondo non c'è stata un'equa distribuzione tanto che la fame in alcuni paesi è ancora effettivamente un grande problema 41 paesi di cui 31 in Africa e l'appello di il Venezuela purtroppo ha un un vero e proprio esodo di abitanti che è una diaspora di venezuelani perché non hanno i mezzi di sussistenza i minimi mezzi di sussistenza non si tratta di diritti alla parola qui si tratta di diritto alla sopravvivenza perché non c'è il cibo lo so bene è blanca e questa infatti è una minaccia ai diritti umani però in Africa ci sono 31 dei 41 paesi mondiali e la Cina è fondamentale in questa opera di occupazione come era stato messo in evidenza nulla dico sul fenomeno di Hong Kong perché ho già disturbato da dietro e qualcuno ha già parlato prima di me ma i fenomeni di schiavitù sono in aumento i migranti sono sempre di più 300 milioni 80 milioni solo in Europa perché questi individui appartengono a popoli senza diritti ecco io ritengo che per poter avere minori guerre minori migrazioni minori tensioni sociali ripensare anche all'approccio internazionale per il tramite della rule law una maggiore precisazione dei diritti e delle giurisdizioni per renderle effettive devono servire a tutti noi a tutti i singoli individui che compongono tutti i popoli grazie mille Vincenzo grazie a tutti voi grazie grazie a te Alessandro e via dicendo scusatemi diamo immediatamente la parola ad un amico un amico che rappresenta un'organizzazione a cui noi teniamo e che seguiamo anche da vicino che è l'Augai l'amico Ciccatielli Everisto che viene da Napoli e che ci onora oggi anche della sua presenza che viene qui al tavolo e ci parla sicuramente degli sforzi che anche l'Augai fa per mettere in luce quella che è l'oppressione in modo particolare cinese grazie buonasera anche io sarò breve ho scritto alcuni dati intanto voglio ringraziare Società Libera per questa iniziativa che dando voce ad una minoranza rompe lo scandaloso silenzio che c'è su questi temi ormai da troppo tempo e sì perché siamo noi la vera minoranza non gli oltre 15 milioni di uigori o i milioni della chiesa di Dio Onnipotente o i tibetani o le decine di milioni di fedeli al Falun Gong decimati negli ultimi vent'anni la Laugari Research Foundation è stata fondata negli Stati Uniti nel 92 da RU dissidente che fu arrestato quando era studente a Pechino studente universitario per aver criticato il partito comunista cinese detenuto per 19 anni nei Laugai questi veri e propri lager riuscì a sopravvivere e arrivato in America fondò l'associazione che in Italia è attiva dal 2005 anzi vi comunico in anteprima che su richiesta su proposta del presidente si chiamerà Arcipelago Laugai nome ispirato dal titolo dell'opera di Alexander Solscheni Arcipelago Gulag che attraverso quest'opera l'autore dimostra come regime comunista riuscì a governare sui popoli oppressi dell'Unione Sovietica solo con la minaccia dell'imprigionamento e come l'economia stessa del paese dipendeva dai campi di lavoro forzato sull'impronta di questi principi tra virgolette totalitaristi sono stati poi creati la OGAI in cui il termine significa riforma attraverso il lavoro oggi trasformazione attraverso l'educazione ma sono sempre gli stessi campi di concentramento e purtroppo sono solo un particolare dell'attuale realtà cinese e della pedagogia del terrore praticata in Cina e coperta dal segreto di Stato per cui non abbiamo dei numeri ben definiti è davvero impossibile fare una riflessione adeguata in pochi minuti mi limito a elencare i principali aspetti che meriterebbero ciascuno un'analisi approfondita il fenomeno è drammatico e di portata gigantesca stiamo parlando dai 3 ai 5 milioni di detenuti migliaia di esecuzioni di massa all'anno non di rado davanti a folle appositamente riunite migliaia di organi espianti dai condannati a morte e venduti con alti profitti collagene ricavato dalla pelle dei morti per produrre cosmetici cadaveri plastinati venduti per le mostre real body che ormai anche in Italia sono organizzati sono state organizzate più volte decine di migliaia di aborti e sterilizzazioni forzate persecuzione sistematica contro i credenti di tutte le religioni compreso quella cattolica recentemente sono state distrutte diverse chiese e si tenta la sinizzazione della stessa Bibbia c'è l'abuso della psichiatria a scopo repressivo voglio solo citare ancora la preoccupazione che c'è per il neocolonialismo che in Africa ha già devastato enormi aree geografiche e qui vorrei citare solo padre Gazzera che proprio qualche mese fa ha documentato nel centro Africa la distruzione di intere aree geografiche causando tra le altre cose l'inquinamento delle acque e dei fiumi necessari per la sopravvivenza degli abitanti di luogo concludo la cosiddetta via della seta è già arrivata in Europa in maniera drammatica è davvero immorale che i governi occidentali ancora guardino la Cina soprattutto da un punto di vista economico senza considerare invece la crescente minaccia per la libertà dell'uomo in tutto il mondo grazie 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 anche all'Augai diamo la parola ad un amico ancora di società libera Mario Dumini Mario Dumini che ci parlerà in modo particolare penso di alcune situazioni che riguardano anche il carcere dell'Italia funziona 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 non lo so a volte non si sente serve per le televisioni no ho capito io vorrei che la gente cominciasse a prendere visione di un'altra strategia per risolvere un sacco di problemi la gente immagino che dovrebbe cominciare a prendere posizione sui lavori moralmente illeciti ce ne sono molti qui soprattutto quell'olite secondini carcerari è un lavoro moralmente illecito se la gente comincia a prendere posizione su un lavoro moralmente illecito quel lavoro cambia perché si sentono sotto il giudizio della gente io spero prima o poi di trovare persone che mi diano una mano in queste cose perché io non so parlare in pubblico però ce la metterò tutta devo solo trovare le persone giuste quindi uno dei primi mestieri da giudicare per un credente è quello di giudicare il secondino carcerario così il carcere si vedrà costretto a cambiare ho già parlato con molti religiosi cosiddetti religiosi che non ci pensano proprio a fare il giudizio di piassimare il cosiddetto cristiano che si prestano lavori moralmente illeciti hanno tutti quanti paura di guai o di che lo Stato tolga i soldi al religioso alla religione che osa giudicare lavori moralmente illeciti non è facile però dobbiamo provarci chissà ancora qualche anno e prima o poi dovranno prendere visione specialmente in certi lavori come il militare o in Cina per esempio si sentono intoccabili ubbidiscono e danno sempre la colpa al superiore il quale la dà un altro superiore e la dà un'altra legge e così via devono sentirsi questi che chiamo i servi del potere devono sentirsi sotto giudizio della gente se non si sentono sotto giudizio continueranno sempre a ubbidire senza riflettere senza scrupoli per questo dico spero che capirete quello che intendo dire i miei saluti grazie grazie questo contesto per poi ritornarci dentro con un episodio che qualche volta aiuta leggere la storia c'è uno storico italiano che si chiamava Guglielmo Ferrero il quale racconta la storia di cosa successe a Napoleone quando Napoleone nel 18 Brunaio fece circondare l'assemblea nazionale dal fratello Luciano che era suo fratello e Luciano collaborava Luciano era un fenerborato dell'eredità della rivoluzione della rivoluzione francese il giorno dopo Napoleone abolì la libertà di stampa il giorno dopo Luciano Bonaparte il fratello si infuriò andò da Napoleone il fratello e gli disse ma come io ho lavorato per te per la libertà per la cosa e tu liberi la risposta di Napoleone è quella da cui vorrei cominciare Napoleone disse se io lascio la libertà alla stampa non rimango al potere neanche un mese questa è la allora questa è la storia qual è allora qual è tutta la teoria la teoria di Ferrero è che quello che governa il mondo quello che governa il potere di questo tipo è la paura la paura questi regimi di cui abbiamo sentito il tuo in Venezuela la Cina sono regimi che hanno paura devono andare a scovare e Ferrero racconta che faceva il professore in America che era tornato in Italia a trovare la madre e a un certo punto viene arriva viene arrestato dal regime fascista e lui non capiva perché perché io non avevo fatto niente aveva però pubblicato un articolo critico su su Los Angeles Times cioè su un giornale a 8.000 km e Ferrero dice un regime che deve andare a scovare un trafiletto di 10 righe su un giornale a 6.000 km vuol dire che è un regime che ha paura è un regime non legittimo questo è il punto vorrei prendere adesso subito il il lacco l'osservazione di Alessandro sull'uso del diritto sull'uso sull'uso del diritto altro piccolo fatto storico nel 1920 dopo la prima guerra mondiale dopo il trattato di Versailles l'Europa era devastata dalla guerra eccetera c'erano circa 2 milioni di che si chiamavano dispersed peoples dispersi che giravano dalla Grecia dalla Turchia insomma e a un certo punto una delle idee più brillanti ed è questo di cui vorrei parlare un attimo venne da un ambasciatore svedese che si chiamava finlandese che si chiamava Friedhof Nansen Nansen inventò una cosa che si chiamavano che è durata per 3-4 anni che erano i passaporti Nansen allora stamparono dei passaporti tutti questi persone disperse li hanno adottate con un passaporto con un passaporto in modo per sapere essere identificati avere un minimo di assistenza di sapere chi sono anche perché molti avevano perso tutto i documenti le cose allora parlando di quello che diceva Alessandro a proposito dell'uso del diritto dei diritti umani per esempio l'idea potrebbe essere quella di dotare queste minoranze di popoli di un passaporto di società libera un passaporto inventato di un passaporto inventato questo qui allora questo cosa significherebbe significa che se è vero quello che dice Ferrero che il regime non legittimo si governa con la paura noi gli proponiamo un'altra paura un'altra paura perché il momento in cui questi popoli questi popoli questi popoli questi primi popoli oppressi avessero tutti un riconoscimento anche solo di società libera anche se in società libera di cui questi non sanno assolutamente nulla qualche cosa cambia poi ci sono tutti i sistemi mediatici insomma questa potrebbe usare anche questi sistemi mediatici che oggi abbiamo a disposizione tutti perché questi regimi non li cambieremo con la politica e non li cambieremo neanche con la guerra con la guerra perché la guerra è reciproca la guerra è devastante invece questo sistema quindi vorrei ringraziare Alessandro per aver tirato fuori questa idea dell'uso dell'uso di dare un riconoscimento giuridico ai diritti umani ficcandoci sopra l'idea di una specie di nuovo passaporto Nansen questa idea del passaporto Nansen credo che mi sta ronzando in testa non ci dormo da due giorni e continuerò forse per altri due e poi spero di avere occasione di riparlarne grazie a Vincenzo io ho finito grazie grazie a te ecco abbiamo voluto riservare in questa scaletta gli ultimi due interventi e gli ultimi due saluti ai due veri padroni di casa il sindaco e all'amico di società libera che abita a Campagnano l'unico e quindi praticamente è quello che si è dato da fare affinché la società libera potesse ritrovare anche una nuova casa dove fare le sue marce visto che era stufa dei sorprusi di un'amministrazione comunale romana degli ultimi anni e quindi grazie ancora a voi con l'augurio e con la speranza che in qualche modo questa marcia possa rinforzarsi però con le comunità locale il sindaco prima mi diceva che aveva bisogno di andare un po' via perché aveva un impegno istituzionale l'ho pregato di rimanere fino alla fine e lo ringraziamo anche per questo perché perché volevo che toccasse con mano in qualche modo che cosa significava ascoltare una serie di popoli oppressi cui oggi abbiamo spaziato in vari continenti prima ho fatto il conto praticamente abbiamo non toccato solamente l'Australia e l'America del Nord poi siamo passati dal Sud America all'Asia all'Africa e a quant'altro abbiamo fatto quasi il giro del mondo e in questa piccola campagnana abbiamo fatto il giro del mondo e soddisfatti anche perché l'obiettivo di Società Libera da che avevamo creato queste marce era essenzialmente due quello di far capire alla gente ma prima che alla gente alle varie comunità dei popoli oppressi presenti in questo paese che bisogna manifestare insieme perché al di là delle cose fatte da Marco Pannella a cui va ancora una volta il nostro riconoscimento non erano abituati questi popoli a marciare insieme cioè se succedeva qualcosa in Tibet questi quei quattro gatti tibetani che abitano e siano residenti in Italia perché sono pochissimi sono 200 persone al massimo in tutta Italia facevano la loro manifestazione per il Tibet e gli iraniani facevano la loro manifestazione per il Tibet quanto abbiamo iniziato c'erano 10 birmani che facevano la loro manifestazione per la Birmania qui non volevo ricordarla la Birmania perché mi si apre come dire una cosa dolorosa io non sono stato chi ha portato in Italia il nome in manifesto anche nelle prime marce via di cento di una signora che si chiamava San Suu Kyi che si chiama San Suu Kyi e che poi è tradito la battaglia dei diritti umani perché poi da oppressa è diventata oppressore o come minimo collaboratrice di oppressori in Birmania o nel Myanmar come si chiama oggi e via dicendo nei confronti delle minoranze musulmane e allora ci siamo un po' riusciti perché avere in una sala avere a Campagnana una decina di rappresentanti di popoli che in qualche modo riconoscono che insieme a noi e insieme a quello che Società Libera ha voluto significare che la libertà è una non può essere divisa in compartimenti stagni perché se toccano la libertà degli amici uguri o venezuelani o tibetani e via dicendo inevitabilmente viene toccata anche la mia libertà in vari modo di riflesso in qualche modo ma anche io mi sento in pericolo e via dicendo e poi se è vero come è vero che siamo come dire un'unica comunità mondiale e via dicendo voglio fare l'internazionalista anche io oggi che non lo sono però voglio dire allora se toccano un mio fratello auguro o un mio fratello italiano non capisco come io possa stare tranquillo e ci stiamo pian piano riuscendo in un paese difficile via dicendo il secondo aspetto e poi vado a chiudere era quello che anche i liberali si preoccupano dei diritti umani e delle libertà perché in genere in questo paese chi si è occupato come dire di libertà manifestato ricordiamo negli anni passati per il Vietnam chi è che non si ricorda il Vietnam e le manifestazioni oceaniche in questo paese che abbiamo visto a Roma in tutte le città italiane e via dicendo bene noi abbiamo voluto dimostrare che non solo l'estrema sinistra ha a cuore i diritti umani che loro ce l'hanno a compartimenti stagni ce l'hanno quanto non vengono messe in discussione alcune cose perché oggi un esempio nessuno si preoccupa di quello che qualcuno qui ha ricordato cioè di quello che in Hong Kong sta per accadere perché quello che abbiamo visto per Hong Kong non ci vuole molto non bisogna avere la sfera di cristallo per capire che è fuori era di grandi problemi sul piano dei diritti umani e sul piano dell'integrità fisica di tanti giovani e via dicendo perché a lunga andare andando per questa strada e che poi voglio dire lì si innesta un altro discorso perché evidentemente quanto la popolazione di Hong Kong inneggia l'America e chiede l'intervento americano automaticamente significa che chiede anche l'intervento cinese quanto sarebbe bella l'esistenza di un'Europa che in questo modo possa fare da cuscinetto ed intervenire senza dare adito e la sponda ai cinesi dice adesso intervengo con i massacri perché devo fermare gli americani ad Hong Kong ma allora al di là di questi scenari di queste cose e via dicendo abbiamo voluto dimostrare che non è solamente l'estrema sinistra che in qualche modo sono così buoni da preoccuparsi dei diritti umani a seconda che convengono a noi a noi non conviene non conviene non siamo amici e nemici di nessuno laddove c'è da intervenire per la libertà in qualche modo diciamo la nostra così per i kurdi così per Hong Kong e via dicendo faccio mia questa bellissima idea del mio amico Marco che su due giorni su cui non ci dorme sopra e via dicendo del passaporto del passaporto e quindi secondo me è una cosa che società libera società libera nel suo piccolo perché è facile la realizzazione e via dicendo può realizzare tirando fuori l'idea del passaporto di società libera a chi soffre di mancanza di libertà e via dicendo alle minoranze tutti quelli che hanno parlato tutti sarebbero titolati a avere essere parte diventa una famiglia una grande famiglia mondiale di detentori di passaporto d'arsene questo questo Marco ti assicuro che ci lavoreremo sopra via dicendo ancora un ringraziamento al sindaco e come dire se vogliamo restare ancora su questo tratto che ha significato la libertà dei popoli che è il cammino della via francigena e via dicendo rafforziamolo questo questa possibilità di marciare di fare dei convegni su questo argomento dobbiamo lavorarci meglio e di più a mio avviso per coinvolgere le popolazioni del luogo grazie sindaco grazie Marco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti